Pacchino Comune nominato nuovo assessore ai lavori pubblici all'urbanistica. Con le deleghe ai lavori pubblici all'urbanistica è stato nominato Massimo Guarino, nuovo assessore del Comune di Pacchino. Con lui e con tutta la compagina amministrativa prosegueremo nel lavoro difficile ma esaltante per far ripartire a Pacchino. Con l'assessore Guarino abbiamo già fatto un punto della situazione del settore di cui si occuperà e dove avrà modo di continuare le attività già intraprese dal presidente assessore Giuseppe Campo, comunica la sindaca di Pacchino Carmela Petralito.